Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di riciclo creativo in cui realizzeremo insieme delle lanterne romantiche perfette per dare la giusta atmosfera al giorno di San Valentino o per qualsiasi altra occasione in cui abbiamo bisogno di dolcezza e di relax. Il tutto ovviamente dando nuova vita a dei semplici barattoli di vetro che abbelliremo utilizzando anche colori acrilici, nastro di carta, nastrini, candele scaldavivande, savvia colorata, colla vinilica, forbici, una matita, un pennello ed un semplice foglio di carta. Prima di tutto pieghiamo il foglio in due e disegniamo mezzo cuore in questo modo. Ritagliamolo e su una superficie da cui possiamo tirarlo via facilmente incolliamo del nastro adesivo di carta su cui tracciando il contorno del cuore ne otterremo l'esatta copia ma in versione stickers che andremo subito a staccare dal piano ed a ritagliare. Scegliamo un punto del barattolo su cui vogliamo incollare il cuore e facciamolo aderire bene. Di questi cuori ce ne serviranno altri tre che una volta fatti incolleremo sul barattolo orientandoci in base al primo che abbiamo già posizionato. Adesso siamo pronti per iniziare a dipingere e quindi creiamo un mix di colla vinilica e di colori acrilici fino ad ottenere la tonalità che più ci piace che poi spennelliamo su tutta la superficie del barattolo. Siccome la colla vinilica tende a stratificarsi non aspettiamo la completa asciugatura del mix ma andiamo subito a scollare via i cuori. Essi lasceranno sul vetro delle bellissime finestrelle a forma di cuore che con un cotton pioc possiamo rifinire meglio nel caso in cui ci fosse qualche sbavatura. Con lo stesso mix e la stessa tecnica possiamo creare l'effetto ed il design che vogliamo e così qui decoro anche un altro vasetto. Quando con le colori saranno asciutti abbelliamo i barattoli con dei semplici nastrini e versiamo all'interno un po' di sabbia colorata che oltre a vivacizzare le nostre creazioni stabilizza le candele. Ed ecco fatto! Le nostre lanterne romantiche sono pronte e non vedo l'ora di vedere il loro effetto da accese. Da amante del rosa le trovo bellissime ma anche con tutti gli altri colori saranno ugualmente belle e soprattutto sono perfette per esprimere amore e tenerezza amplificati ancora di più dalla fiamma che si intravede dai cuori. Spero tanto che questa mia idea fai da te vi piaccia e che la rifarete e se vi fa di abbinare anche le candele a forma di cuore cliccando qui giù troverete direttamente il tutorial per realizzarle ed intensificare il romanticismo di queste lanterne. Aspetto tutti i vostri commentini e fatemi sapere cosa ne pensate e se non siete ancora iscritti al mio canale cliccando sul luoghetto rimarremo sempre in contatto. Vi mando tanti bacioni e ci rivediamo prestissimo. Ciao!